Finisce per sempre in una casa famiglia, ma lo scoprirà e finirà nella casa famiglia lo stesso. Non se starà con lui abbastanza da affezionarci, sì. Io ho accettato di vivere qui fino a quando non trovate il vero padre, ma non ho accettato di vivere con lui. Ed è per questo che hai assunto azzurra. Chi? È diventata veramente una tata bravissima. Dai, è solo un anno. Quanto può durare un anno? Quanto può durare? Un anno. Chi è questo ragazzo che stai frequentando? È il primo della mia lista, Sperangela, guardi. La lista dalla A alla Z, tutti i milionari di Modena e provincia in ordine alfabetico. Non ci posso credere che tu sappia ordinare in ordine alfabetico. Sì, ti arriva. Buonasera. Se pensi di usarla solo per divertirti, fai un errore di valutazione. Io non ti sto chiedendo di stare lontano da Zorra, io te lo sto ordinando. Guarda che ti ho sentito ieri sera, mentre parlavi con il tuo amico Umberto. Sei stato carino a difenderla. Domani ho l'incontro con il giudice di pace e io non ho scritto una riga. Stai dicendo, andrò in prigione. In prigione adesso. Vabbè dai, ti aiuto io. Domani ti accompagno da giudice di pace. Grazie. Che dici, può andar bene? Guarda, sono un pirata, pazzesco, no? Pazzeschissimo. La tua ignoranza sfiora il sublime. Non me l'ha mai detto nessuno. Sta meglio con i capelli tirati. Non la fanno meno bambina. Dice, dottore. Diamoci del tu, siamo colleghi, no? Francesco. Margherita. Alle undici luci spente. Siamo due estranei che condividono alla stessa stanza. Ma da quando hai questi attacchi di panico? Non sono attacchi di panico. È solo un po' di tachigardia. Non dire niente a nessuno di quello che è successo ieri sera. Hai capito? Se l'avvocato sapesse dei miei problemi, di sicuro non mi farebbe andare in tribunale. Non ho bisogno di ricattarti. Sono un avvocato migliore di te. E alla fine vincerò io lo stesso. Pazzesco, ma che ti sta succedendo? Non sei più tu. Io aspetto un bambino. Dio ci aiuti.